Benvenuti ragazzi, io sono IronDee e adesso andiamo a vedere come si fa a giocare nel Multiplier Cioè in poche parole, come cliccare il bottone tasto Multiplier e far si che escono questi server Noi li chiamiamo server, per far si che escono questi server noi clicchiamo ed entriamo a giocare Cioè dove ci sono tante persone, tanti player reali che giocano in una stessa partita E' semplice, infatti se andate in basso nella descrizione troverete un semplice link Lo cliccate e dopo 5 secondi vi aprirà la pagina ufficiale di Minecraft Italia Una volta aperta quella pagina, vi porterà direttamente nella lista, nelle top list di server più belli d'Italia Infatti adesso al primo posto c'è Wild Adventure, mi sembra che è quasi in annetto che sta al primo posto Infatti più scendete, infatti qua ci sono i numeri, e più è meno famoso Ci sarà medaglia d'oro, medaglia d'argento e medaglia di bronzo Comunque andiamo subito al dunque Volete giocare per esempio a Wild Adventure Cosa facciamo? Prendiamo il link, cioè il mc.nome.it che c'è sotto Lo copiamo Facciamo aggiungi server su Minecraft Andiamo qua e fate command V Ho un altro command, adesso non li so perché su ogni computer è differente Comunque fate incolla O ve lo scrivete a mano E fate fatto Fate aggiorna, infatti riuscirà Al momento ci sono 739 player E addirittura in un server inglese ci sono 14.000 player Comunque noi vediamo solo quelli italiani Avete capito? Quindi è semplicissimo Prendiamo un altro server La prima scritta che troviamo mc.nome.it Aggiungi server Copia e incolla Fatto Aggiorna Sarà chiuso il server Va bene, avete capito? Ci vediamo al nostro prossimo video